Sacchetto, guanti e pinza raccogli rifiuti. Grandi e piccini si sono ritrovati stamani in centro storico per ripulire il cuore della città da cartacce, plastica e muzziconi di sigaretta. L'iniziativa rientra nel progetto Prato Città Curata, ci penso io, promossa dal Comune e dal Lega Ambiente col supporto di Alia e Publiacqua. L'obiettivo è quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza sul corretto smaltimento dei rifiuti, anche più piccoli, dando un modello di educazione civica da seguire alle generazioni più giovani. Speriamo che loro, queste generazioni, siano più educate e più attente delle nostre. Io me l'auguro, questo tipo di attività serve proprio a sensibilizzare in questo senso. Bambini e famiglie si sono spostati fra Piazza Mercatale, Castello dell'Imperatore e altre strade del centro cittadino. È partecipante anche il compito di segnalare con un apposito adesivo le deiezioni dei cani, così da fare capire che si tratta di un comportamento scorretto. Al termine di questa campagna di sensibilizzazione, il Comune procederà anche con i controlli specifici antidegrado, elevando le relative multe. Ma per il momento si tenta di seguire la strada della sensibilizzazione. Deve essere una campagna di civiltà nella quale l'amministrazione vuole evidenziare non un'attività legata alle multe che si inizieranno anche a fare legate al degrado, ma soprattutto costruire una coscienza civica nella quale tutti ci riconosciamo in una città più pulita e con una sostenibilità ambientale maggiore. A fine mattinata erano numerosi sacchetti riempiti di spazzatura, lasciando così a tutti i pratesi un centro città più pulito e decoroso. La campagna si chiama Prato città curata, ci penso io perché vogliamo mettere proprio l'accento sull'impegno personale di ciascuno di noi. Tutti possiamo dare un contributo per tenere pulita la nostra città, per far sì che non si sporchi e per renderla per tutti più piacevole e più igienica se vogliamo.